Il canile più vicino al territorio grazie all'iniziativa lanciata dal Comune di Agropoli adotta un cane del tuo territorio. Sabato 2 febbraio alle ore 10 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli si terrà un incontro aperto al pubblico al quale prenderanno parte il Sindaco Coppola, il Comandante della Polizia Maggiore Carmine Di Biasi ed il responsabile di Mr. Dog Village SRLS di Acerra, Raffaele Zito, la struttura che ha in ricovero i randaggi del Comune di Agropoli. L'incontro al quale prenderanno parte anche le associazioni di volontariato del territorio sarà l'occasione per presentare con apposito materiale informativo i cani presenti presso la struttura e le caratteristiche degli stessi. Un'occasione quindi durante la quale il canile su impulso dell'ente si apre all'esterno per far conoscere gli amici a quattro zampe che gestisce per conto dell'ente invoiando il pubblico ad adottarli. Nella medesima sede infatti coloro che vorranno potranno compilare gli appositi moduli per l'adozione, in tal caso a questi verrà anche donato un apposito kit ad adozione da parte della struttura. È stato stabilito che tali incontri saranno sistematici e si svolgeranno ogni ultimo sabato del mese a partire da febbraio 2019. Oltre all'incontro del duo infatti si terrà un ulteriore incontro il prossimo 23 febbraio. In questo modo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola punta a raggiungere un doppio obiettivo, far conoscere i cani all'esterno sperando che trovino una famiglia che possa amarli e coccolarli, sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto dei diritti degli animali. Stiamo lavorando, affirma il sindaco Coppola, affinché si possa iniziare a discutere seriamente di risolvere il problema del randagismo. Gli uffici preposti stanno preparando un progetto con stima dei fondi utili per comprendere se è possibile riattivare una struttura prossima al nostro comune. Nel frattempo non possiamo tenere i cani nel canile di Acerra e dimenticarli. Per questo abbiamo pensato ad un'iniziativa che portasse i cani ad essere mostrati all'esterno. Questo al fine di farli conoscere e magari sperare in qualche buona adozione. Si sta lavorando anche sulle stelirizzazioni. Attenzione inoltre sulle microcippature. Questo al fine di evitare cucciolate selvagge e abbandoni incontrollati. Sarà ulteriormente intensificata inoltre la vigilanza sul territorio per impedire l'abbandono indiscriminato degli animali. Coloro che dovessero rendersi responsabili di tali azioni, conclude, saranno perseguiti severamente a norma di legge.